Ora abbiamo avvicinato per salveri atti Sì, è vero. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 a a a a a e i piedi si faccia e . . . . . . . Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Qui si sta sul cammino Ma ora in cui ci siamo andati Qui vanno si vanno O non è così O in questo modo Il è anche un jet ski Il è anche un jet ski Il è andato 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 c'è un cartone c'è un pozzo che fai anche il suo ruolo c'è un pozzo c'è un pozzo c'è un pozzo Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Ahahahahha Amerikan Ega bana vè pittiti Che pè padi Saab utra panni Wow Ega saab utra hara hara panni è E' un po' a gano 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 Wow Kya hara hara panni è Wow Hey a' a gano E' un po' a gano E' un po' a gano Is it è Rishhti guotta Is it Rishhti guottare anche utar paare Da' barca utar Vieni, vieni, vieni! e 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